Prego, e lei desidera altro? Portami il secondo. Subito, il dottore cosa desidera per secondo? Tutto. Come tutto? Sì, tutto. Va bene, dottore. Tutto quello che rimane in cucina è per il dottore. Buon appetito, doc. Grazie. Buon appetito. Piatto dello chef, cucinato con mia mani, tacchino di campagna, chi lo magna lo rimagna. Chi è il capo qui? Io sono cuoco cinese, signore, io non samurai. Possiamo dividere da buoni amici. Due pisti stavolini cinti. Scalun, scalun. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.